Siamo trasmettendo su www.letteralmente.info Letteralmente Studio 3 Cristina da Firenze Ricetta del cuore Melanzane ripiene 4 melanzane di media grossezza Sale, un massetto di prezzemolo Alcune foglie di basilico, origano Un cucchiaio di cappere sotto sale Un pomodoro maturo Un uovo 50 g di parmigiano gattugiato Pan grattato integrale Uno spicchio d'aglio Olio extravergine d'oliva Pulite le melanzane, lavatele, asciugatele Tagliatele a metà nel senso della lunghezza E fatele bollire in acqua leggermente salata Toglietele dal fuoco quando sono al dente Lasciatele raffreddare, poi strizzatele E togliete loro la polpa con un cucchiaino Raccogliendola in una scodella Aggiungete il prezzemolo tritato E il basilico sminuzzato E un po' d'origano I capperi sciacquati e tritati Il pomodoro tagliato a pezzetti L'uovo, il formaggio gattugiato Un po' di pan grattato L'aglio sbucciato e schiacciato E dell'olio Amalgamate il tutto con cura Aggiustate di sale E riempite le melanzane con il composto ottenuto Ungete una teglia con dell'olio Disponetevi le melanzane ripiene Spolveratele di pan grattato E metteteli in forno A calore moderato Fatele gratinare Quindi servitele ben calde